La teologia del modernismo La teologia della liberazione La teologia dell'umanesimo Sono frecce appuntite e pungenti Che feriscono il mio cuore Il falso ecumenismo mi scaccerà dalla Chiesa Mi scaccerà dai miei altari Perché si abbracceranno false dottrini umane Che sono state ordinate da uomini malvagi Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo Ricevuto dal discepolo Il traditore è già qui La mia Chiesa è stata venduta Amati figli miei Le armi occulte del dominio mondiale Le forze che sono mie nemiche e nemiche Della mia Chiesa E dei miei fedeli E dei miei fedeli discepoli che mi seguono Ci stanno facendo violenza E adesso figli miei Che il regno dei cieli sulla terra Sta subendo violenza E adesso che chi si sforza Chi è coraggioso vi entrerà Prima ci fu L'elaborazione di un piano maestro Quindi L'infiltrazione Che ha raggiunto le cariche più alte In seguito La manipolazione Il tradimento E il controllo dei mezzi di comunicazione Il falso pastore Satana Ha lavorato instancabilmente Dalle più alte cupole della Chiesa Fino ad introdurre un falso pastore Che presto Abbandonerà il suo posto Per lasciare Per lasciare il passo alla più grande Delle abominazioni Il falso pastore Ha venduto le pecore Le ha fatte entrare In una totale confusione Facendo credere loro Che stanno seguendo la verità Mentre lui stesso Nella sua persona È pieno di menzogne E di una superbia pertinace Lui sta sottomettendo all'obbedienza Tutta la mia Chiesa Che era già contaminata E pervertita Ha usurpato il primato di Pietro Ha corrotto il trono Petrino E di fatto Non ha il potere Delle chiavi Del regno dei cieli Dietro a lui Dietro a lui I fili Vengono tirate dalle mani Di quelli che controllano tutto Li muovono E gli danno ordini Lo obbligano a fare sottili Dichiarazioni Che stanno portando I miei figli Alla confusione E alla divisione La mia Chiesa È stata smembrata E sta marcendo Molti degli ordini religiosi Si stanno lasciando sedurre Molte delle mie diocesi Ed arcidiocesi Puzzano di putrido Non hanno più Il mio buon odore Perché hanno perso L'amore E la carità Un altro Vangelo Ah mio discepolo Scrivi Un lamento Per la mia Chiesa Che è inondata Da traditori Galati 1 6 6 Mi meraviglio Che così in fretta Da colui Che vi ha chiamati Con la grazia di Cristo Passiati ad un altro Vangelo Ormai Non è più il mio Vangelo La buona novella Ma si tratta Di sincretismo E di false sette Daniele 3 18 Ma anche Se non ci liberasse Sappio Re Che noi non serviremo mai I tuoi dei E non adoreremo La statua d'oro Che tu hai eretto I miei figli Semplici Ed umili Sono Quelli Che cercano Di amarmi E di seguirmi Le sette Le sette Sono opera Del demonio E la falsità E la menzogna Sono in quei pastori Che negano L'esistenza Del demonio Romani 1 22 Mentre si Dichiaravano Sapienti Sono diventati Stolti Sacerdoti Vescovi E teologi Stanno negando La mia risurrezione E la negano Con menzogne Che sono state Infiltrate Recano Danno Nel negare La mia presenza Reale Nella Eucaristia Falsa Teologia Ed ecumenismo La teologia Del modernismo La teologia Della liberazione La teologia Dell'umanesimo Sono frecce Appuntite E pungenti Che feriscono Il mio cuore Il falso Ecumenismo Mi scaccerà Dalla chiesa Mi scaccerà Dai miei altari Perché Si abbracceranno False Dottrine Umane Che sono state Ordinate Da uomini Malvagi L'unione Delle religioni Mondiali Non accetterà Più La mia madre Immacolata Pura e santa Come madre di Dio Come mia madre E madre Dell'umanità In questo modo Hanno sottomesso Molti Dei miei figli Che sono In apprensione Ed hanno paura Perché non vogliono Uscire Dalla chiesa Che si è prostituita Al volere Del mondo Oh discepolo Mio Continua A scrivere Anche se il farlo Ti costa un grande sforzo Io Il Signore Continuerò a parlare Chi vorrà capire Che capisca La chiesa Sbattuta Dalle onde Ascoltate la voce Del pastore Che dà la vita Per le pecore I miei profeti Vi annunciano le cose E vi avvertono Nel mio nome Perché Io Li ho presi per me E non subiranno Alcun danno Mentre staranno Compiendo La loro missione La mia chiesa Adesso è come Una barca Sbattuta Dalle onde E dalla tempesta L'impostore L'ha guidata In acque Turbolente E le ha fatto Smarrire La via Questo tempo Doveva venire Non stupitevi Che torni A ripetervelo Stanno esercitando Il controllo Religioso Con l'appoggio Del potere Economico Mondiale Dei poteri Del padrone Di questo mondo Che sembrano Triunfare Sotto la copertura Di vescovi Cardinali Che hanno Usurpato Il comando In modo Indebito Con me O contro Di me Figli miei Il mio potere Più grande Molto più grande Del falso potere Che governa Il mondo O state Con me Oppure State contro Di me Lo avete Sentito E lo avete Letto Che chi ostenta Di essere amico Del mondo Si trasforma Il mio nemico Massoni Massoni Traditori Massoni Traditori Cattivo Seme Dei farisei Che fingono Di essere Quello Che non Sono Siete Come sepolcri Imbiancati Che nascondono Le apparenze Sotto una veste Di falsa Umiltà Traditori Infami Che trascinate Le anime Nell'inganno Seducendole Con i più Abominevoli Peccati Ed eresie Ululate Lupi E cani Che non Vi saziate Di mentire E di rubare Correte In fretta Razza Di vipere Perché presto Verrà il fuoco Del mio cuore A purificare La terra O lupi E iene rapaci Umiliatevi Di fronti Al mio braccio Potente E giustiziere Anche se Vi nasconderete Sotto terra Là sotto Nei bunkers Non sfuggirete Alla mia mano Massoni Traditori Massoni Traditori Che seguite L'esempio Di Giuda Indossate Il cilicio Ed abiti Ruvidi Perché io Il Signore Scuoterò La terra Attirando L'asteroide Dalla galassia Con il quale Vi aprirò La mente Il cuore E le coscienze Vi terrò Davanti a me E mi renderete Conto Delle vostre Nefandezze Purificatevi Quindi Pentitevi Perché L'anno Profetico Che sta Per cominciare Porterà La sferza Del flagello Per l'umanità Intera Tremate Di paura Perché avverranno Anche Grandi Portenti O razza Di traditori Di sicari E sbirri Di asmodeo E del leviatano Io stesso Vi dice Il Signore Io Vi scaccerò Dalla mia Casa Che avete Fatto Chiudere Getterò Le vostre Miserie Lontano Da me Così Come Giuda Gettò Le monete Così Come Io Il Signore Gettai Fuori I venditori Di pecore Di colombe E di buoi Assieme A tutti I mercanti Cosa Aspettate Finite Di fare Quello Che i vostri Padri Cominciarono L'anticristo Dominerà Tutto Discepolo Mio So Che è Duro Per te Farlo Conoscere Ma Quando Ti Dissi Che per Il 24 Giugno Tutto Sarebbe Stato Consumato Mi Riferivo Al Fatto Che la Grande Abominazione Nella Chiesa Avrebbe Preso Il Controllo Totale Chiunque Si Opporrà Al Nuovo Sistema Verrà Fatto Sparire Ma Stai Certo Discepolo Mio Che Tu E I miei Profeti Non Potranno Farli Tacere Animo Perché Io Il Signore Ho Parlato E Ho Fatto Conoscere Il Mio Pensiero Il Traditore È Già Qui La Mia Chiesa È Stata Venduta Ma Nonostante Ciò Io Preserverò Con La Mia Grazia Quelli Che Ho Prescelto Io Il Signore Ho Parlato Ixtus Shalom 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 Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo, ricevuto dal Veggenio e Gesù Cristo, ricevuto dal Veggenio e Gesù Cristo, ricevuto dal Veggenio e Gesù Cristo. Il Discepolo Il Traditore È Già Qui La Mia Chiesa È Stata Venduta La Teologia Del Modernismo La Teologia Della Liberazione La Teologia Dell'Umanesimo Sono Frecce Appuntite Pungenti Che Feriscono Il Mio Cuore Il Falso Ecumenismo Mi Scaccerà Dalla Chiesa Mi Scaccerà Dai Mio Altari Perché Si Abbracceranno False Dottrine Umane Che Sono State Ordinate Da Uomini Malvagi Messaggio Di nostro Signore Gesù Cristo Ricevuto dal Discepolo Il Traditore È Già Qui La La Chiesa È Stata Venduta Amati Figli Miei Le Armi Occulte Del Dominio Mondiale Le Forze Che Sono Mie Nemiche E Nemiche Della Mia Chiesa E Dei Miei Fedeli E Dei Miei Fedeli Discepoli Che Mi Seguono Ci Stanno Facendo Violenza E Adesso Figli Miei Che Il Regno Dei Cieli Sulla Terra Sta Subendo Violenza E Adesso Che Chi Si Sforza Chi E Coraggioso Vi Entrerà Prima Ci Fu L'elaborazione Di Un Piano Maestro Quindi L'infiltrazione Che Ha Raggiunto Le Cariche Più Seguito La Manipolazione Il Tradimento E Il Controllo Dei Mezzi Di Comunicazione Il Falso Pastore Satana Ha Lavorato Instancabilmente Dalle Più Alte Cupole Della Chiesa Fino Ad Introdurre Un Falso Pastore Che Presto Abbandonerà Il Suo Posto Per Lasciare Per Lasciare Il Passo Alla Più Grande Delle Abominazioni Il Falso Pastore Ha Venduto Le Pecore Le Ha Fatto Entrare In Una Totale Confusione Facendo Credere Loro Che Stanno Seguendo La Verità Mentre Lui Stesso Nella Sua Persona E Pieno Di Menzogne E Di Una Superbia Pertinace Lui Sta Sottomettendo All'obbedienza Tutta La Mia Chiesa Che Era Già Contaminata E Pervertita Ha Usurpato Il Primato Di Pietro Ha Corrotto Il Trono Petrino E Di Fatto Non Ha Il Potere Delle Chiavi Del Regno Dei Cieli Dietro A Lui Dietro A Lui I Fili Vengono Tirate Dalle Mani Di Quelli Che Controllano Tutto Li Muovono E Gli Danno Ordini Lo Obbligano A Fare Sottili Dichiarazioni Che Stanno Portando I Miei Figli Alla Confusione E Alla Divisione La Mia Chiesa È Stata Smembrata E Sedurre Molte Delle Mie Diocesi Ed Arcidiocesi Puzzano Di Putrido Non Hanno Più Il Mio Buon Odore Perché Hanno Perso L'amore E La Carità Un Altro Vangelo Ah Mio Discepolo Scrivi Un Lamento Per La Mia Chiesa Che È Inondata Da Traditori Galati 1 6 6 Mi Meraviglio Che Così In fretta Da Colui Che Vi Ha Chiamati Con La Grazia Di Cristo Passiati Ad Un Altro Vangelo Ormai Non È Più Il Mio Vangelo La Buona Novella Ma Si Tratta Di Sincretismo E Di False Sette Daniele 13 18 Ma Anche Se Non Ci Liberasse Sappio Re Che Noi Non Serviremo Mai I Tuoi Dei E Non Adoreremo La Statua D'oro Che Tu Hai Eretto I Miei Figli Semplici Ed Umili Sono Quelli Che Cercano Di Amarmi E Di Seguirmi Le Sette Le Sette Sono Opera Del Demonio E La Falsità E La Menzogna Sono In Quei L'Esistenza Del Demonio Romani 1 22 Mentre Si Dichiaravano Sapienti Sono Diventati Stolti Sacerdoti Vescovi E Teologi Stanno Negando La Mia Risurrezione E La Negano Con Menzogne Che Sono State Infiltrate Recano Danno Nel Negare La Mia Presenza Reale Nella Eucaristia Falsa Teologia Ed Ecumenismo La Teologia Del Modernismo La Teologia Della Liberazione La Teologia Dell'umanesimo Sono Frecce Appuntite Pungenti Che Feriscono Il Mio Cuore Il Falso Ecumenismo Mi Scaccerà Dalla Chiesa Mi Scaccerà Dai Miei Altari Perché Si Abbracceranno False Dottrine Umane Che Sono State Ordinate Da Uomini Malvagi L'Unione Delle Religioni Mondiali Non Accetterà Più La Mia Madre Immacolata Pura E Santa Come Madre Di Dio Come Mia Madre E Madre Dell'umanità In In Modo Hanno Sottomesso Molti Dei Miei Figli Che Sono In Apprensione Ed Hanno Paura Perché Non Vogliono Uscire Dalla Chiesa Che Si E Prostituita Al Volere Del Mondo Oh Discepolo Mio Continua Scrivere Anche Se Il Farlo Ti Costa Un Grande Sforzo Io Il Signore Continuerò A Parlare Chi Vorrà Capire Che Capisca La Chiesa Sbattuta Dalle Onde Ascoltate La Voce Del Pastore Che Dà La Vita Per Le Pecore I Miei Profeti Vi Annunciano Le Cose E Vi Avvertono Nel Mio Nome Perché Io Li Ho Presi Per Me E Non Subiranno Alcun Danno Mentre Staranno Compiendo La Loro Missione La Mia Chiesa Adesso È Come Una Barca Sbattuta Dalle Onde E Dalla Tempesta L'impostore L'ha guidata In acque Turbolente E Le Ha Fatto Smarrire La Via Questo Tempo Doveva Venire Non Stupitevi Che Torni A Ripetervelo Stanno Esercitando Il Controllo Religioso Con L'appoggio Del Potere Economico Mondiale Dei Poteri Del Padrone Di Questo Mondo Che Sembrano Triunfare Sotto La Copertura Di Vescovi Cardinali Che Hanno Usurpato Il Comando In Modo Indebito Con Me O Contro Di Me Figli Miei Il Mio Potere Più Grande Molto Più Grande Del Falso Potere Che Governa Il Mondo O State Con Me Oppure State Contro Di Me Lo Avete Sentito E Lo Avete Letto Che Chi Ostenta Di Essere Amico Del Mondo Si Trasforma In Mio Nemico Massoni Massoni Traditori Massoni Traditori Cattivo Seme Dei Farisei Che Fingono Di Essere Quello Che Non Sono Siete Come Sepolcri Imbiancati Che Nascondono Le Apparenze Sotto Una Veste Di Falsa Umiltà Traditori Infami Che Trascinate Le Anime Nell'inganno Seducendole Con I Più Abominevoli Peccati Ed Eresie Ululate Lupi E Cani Che Non Vi Saziate Di Mentire E Di Rubare Correte In Fretta Razza Di Vipere Perché Presto Verrà Il Fuoco Del Mio Cuore A Purificare La Terra Oh Lupi E Iene Rapaci Umiliatevi Di Fronti Al Mio Braccio Potente E Giustiziere Anche Se Vi Nasconderete Sotto Terra Là Sotto Nei Bunkers Non Sfuggirete Alla Mia Mano Massoni Traditori Massoni Traditori Che Seguite L'esempio Di Giuda Indossate Il Cilicio Ed Abiti Ruvidi Perché Io Il Signore Scuoterò La Terra Attirando L'asteroide Dalla Galassia Con il Quale Vi Aprirò La Mente Il Cuore E Le Coscienze Vi Terrò Davanti A Me E Mi Renderete Conto Delle Vostre Nefandezze Purificatevi Quindi Pentitevi Perché L'anno Profetico Che sta Per Cominciare Porterà La Sferza Del Flagello Per L'umanità Intera Tremate Di Paura Perché Avverranno Anche Grandi Portenti Oh Razza Di Traditori Di Sicari E Sbirri Di Asmodeo E Del Leviatano Io Stesso Vi Dice Il Signore Io Vi Scaccerò Dalla Mia Casa Che Avete Fatto Chiudere Getterò Le Vostre Miserie Lontano Da Me Così Come Giuda Gettò Le Monete Così Come Io Il Signore Gettai Fuori Venditori Di Pecore Di Colombe E Di Vuoi Assieme A Tutti I Mercanti Cosa Aspettate Finite Di Fare Quello Che I Vostri Padri Cominciarono L'Anticristo Dominerà Tutto Discepolo Mio So Che È Duro Per Te Farlo Conoscere Ma Quando Ti Dissi Che Per Il 24 Giugno Tutto Sarebbe Stato Consumato Mi Riferivo Al Fatto Che La Grande Abominazione Nella Chiesa Avrebbe Preso Il Controllo Totale Chiunque Si Opporrà Al Nuovo Sistema Verrà Fatto Sparire Ma Stai Certo Discepolo Mio Che Tu E I Miei Profeti Non Potranno Animo Perché Io Il Signore Ho Parlato E Ho Fatto Conoscere Il Mio Pensiero Il Traditore È Già Qui La Mia Chiesa È Stata Venduta Ma Nonostante Ciò Io Preserverò Con La Mia Grazia Quelli Che Ho Prescelto Io Il Signore Ho Parlato Ixtus Shalom Shalom Chim